Mandi, frus! Ben chiatà! Sabece cosa sono da ora a fare? Sono da ora a preparare un lavoro per la fiesta di alui. Volevo prepararlo con me? Ho scoperto in roba una volta semplice. Due o tre sacchetture di plastica trasparente, fili strins blancs o colorati, gli siori e un penarello in delle bilneri. Sul denante ai sacchetturi, disegnate semut che usplasin l'ismosiz di una crepe ven a stai partagliare teschio. Iemplaiti due o tre sacchetturi trasparente con siori, sieraiti ubenon con un filistrin blanc o colorato. Vecchali su estri screpi per decorare le stanze di chiasa.